Allora un attaccante giovane in uno spogliatoio che di attaccanti ne ha altri molto esperti, come per esempio Moscardelli e Cutolo che hai citato. Che cosa ti ha colpito innanzitutto di questi due giocatori nei primi allenamenti? La loro esperienza, parliamo di giocatori che hanno fatto serie A, tanta serie B, giocatori forti. Questo è stato uno dei motivi della mia scelta, cioè venire qui, perché da loro posso imparare tanto, ma davvero tanto. Bravi ragazzi, umili, davvero non me l'aspettavo di trovare questo ambiente, questo spogliatoio. Con Moscardelli e Cutolo ci sarà anche modo di trovare il feeling giusto. Le tue caratteristiche, anche dal punto di vista tecnico, quali sono e con chi ti vedi bene in campo in questa stagione? Ma in campo mi do bene con chiunque, perché chi c'è in campo, Scardelli, Cutolo, Dursi, io devo entrare, mi devo far trovare pronto e dare il 100%. Hai notato delle differenze di Mr. Bellucci nella gestione dello spogliatoio? Tu lo conoscevi, anche se non l'avevi avuto direttamente a Genova con la Samp, nella gestione dello spogliatoio e nella gestione delle cose di campo in queste prime settimane? No, differenze no, anzi, ci stiamo trovando tutti bene, perché è un allenatore che ci fa giocare palla e non ce ne sono tanti. Quindi abbiamo un buon gioco, un grande gioco secondo me e possiamo fare bene questa stagione con lui. Dal punto di vista personale ti sei fissato un obiettivo in termini di presenze, di gol? È normale, un giocatore va in una squadra e si fissa sempre il suo obiettivo, quello che deve fare. Sinceramente il mio obiettivo è fare più presenze e più gol possibili per aiutare la squadra, come abbiamo detto prima, la salvezza prima e poi si vedrà. In bocca al lupo. Crepi.